Finalmente siamo tutti contentissimi. Dopo oltre sei mesi i negozi dei centri commerciali alzano le saracinesche anche di sabato e domenica. Fino ad ora erano aperti solo i servizi essenziali. Un'attesa durata parecchio tempo e un giro di boa che i commercianti e le strutture aspettavano e chiedevano da tempo. Ovviamente adesso non aspettiamo altro che i nostri clienti. È stata dura però finalmente è arrivato il giorno. La risposta è stata molto positiva per quanto riguarda la mattinata. Un po' di flusso in più abbiamo visto essendo considerato weekend. Insomma noi intanto incrociamo le dita. Proprio lo scorso 11 maggio si era tenuto uno sciopero nazionale con saracinesche abbassate in tutta Italia in segno di protesta. I negozianti ora possono tirare un sospiro di sollievo. Vedevamo l'ora e siamo anche contentissimi di come sta andando. C'è un buon afflusso di clienti. Direi proprio di sì e anche scontrini molto buoni devo dire. Quindi siamo contenti. È un buon ritorno? Sì direi proprio di sì. C'è finalmente un po' di normalità. Negli ultimi mesi i negozi dei centri commerciali hanno avuto ingenti perdite di fatturato a causa di queste chiusure nei weekend. Un decremento di vitale importanza basta considerare che è nei giorni festivi che si concentra quasi la metà delle vendite. Le perdite di fatturato nei weekend ci hanno penalizzato tantissimo erano veramente importanti dell'ordine del 20-25% se non di più. Chiaramente anche ha influito il periodo di Natale. Con le gallerie dello shopping aperte si torna ad una normalità che anche molte persone attendevano. Era ora per i negozianti, per i clienti e per tutto quello che ha conseguito la chiusura dei negozi. Dai è bello ripartire, è bello girare per poter passare nei negozi e vedere aperto. Finalmente dopo sette mesi ci siamo fatti un bel giro con la famiglia. Chissà che sia finito tutto.